Ferre non ci posso credere, sai che cosa vuol dire quello che stiamo vedendo? Oh mio Dio Vuol dire che Marche ci ha davvero catturato Evie e Scheiter e oggi ce li regala Ferre Oh mio Dio che bello, io ovviamente dovevo chiedere Evie anche, sai perché l'ho chiesto? Non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa, no 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 no, è un momento felice, non è un momento di Ferre dice cose Comunque questa rappresentazione nostra io me la tengo eh, qui davanti a casa è strabella Con Scheiter che vuole uccidere Evie perché di fatto è quello eh No, stanno facendo amicizia eh, la voglio abbracciare vero? Stanno facendo amicizia eh, sì E ragazzi come va? Io sono Ferre Niki E sono Stefano che si giochiamo a Minecraft E benvenuti nel nuovissimo episodio della Pixelmon e questo penso che sia l'episodio più bello perché finalmente Mark ci farà il regalo Vabbè mi piacciono i regali Lo so che ti piacciono i regali Fede Bisogna essere felici quando vengono fatti dei regali, capisci? Lo so, lo so anche io lo so, finalmente avrò il mio Scheiter, sono felicissimo Anche perché io Evie l'ho cercato in lungo e largo, non l'ho mai trovato, quindi sono molto felice Il discorso è che tutto questo accadrà a fine episodio Fede perché in questo momento Mark non c'è nel server Dovremmo aspettare fino a sera per poter avere i nostri Pokémon Quindi Ma io lo voglio subito Eh lo so ma non puoi averlo subito, mi dispiace Però è bello se è felice A meno che non lo trovi a casa adesso in giro faremo un posto video No ma non lo posso catturare perché me lo deve dare Mark Ok Comunque, dato che dobbiamo aspettare fino a sera che arrivi Mark Ho pensato a una bella sfida che possiamo fare insieme Ok Ok Ho pensato, facciamo che abbiamo 10 Safari Ball a testa Ok E dobbiamo fare una sfida di chi riesce a catturare il Pokémon più buffo Ok È una sfida strana È strana, infatti non me l'aspettavo Mi aspettavo qualcosa di bello, di epico, capisci Essendo buffo è una roba soggettiva Infatti sanno Pokémon che non utilizzeremo nella nostra squadra ma che terremo nel PC Essendo buffo è una cosa soggettiva ovviamente saranno i consolini a decidere chi avrà vinto Però in linea generale cerca qualcuno con i capelli Qualcuno con una faccia strana Qualcuno di particolare Che possa essere appunto buffo Ok Però prima di fare quello Ancora? Cioè quando vuoi iniziare a fare qualcosa oggi Steph E dobbiamo aspettare la sera per il Pokémon E dobbiamo aspettare per... Cosa vuoi fare? Cioè dovevi fare la lista al contrario Non dire per prime le cose che si fanno per ultime Volevo semplicemente dire Ok Ok Che Mark ci ha regalato anche il computer Però ne ha messo uno Davvero? Dobbiamo decidere se si tiene a casa tua Io ho la casa più bella quindi me lo prendo io Pere Dai Da te neanche ci sta È talmente piccola che neanche ci sta Ho una stanza fatta apposta Guarda Vieni 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 Ci sei? Dimmi che non sarebbe perfetto tipo qua Guardalo Guardalo Completa la mia stanza Che quella parete era un po' vuotina Capito? Vabbè Va bene? Andiamo Ok Non va bene Però andiamo via lo stesso Dai Vabbè dai Te l'ho detto Da te non c'è spazio Non è la stanza apposita Perché hai scavato una fossa sottoterra E quella nella tua mente è pure una stanza Ok? Sì che lo è No non lo è Non criticare pure Cioè già mi hai rubato il computer Ci manca che mi critichi pure Allora Teniti un Pokémon che vuoi Per combattere i vari Pokémon Che dovremmo catturare Preparati con le tue bellissime Safari Ball E inizia la sfida Tra 3 2 1 Via Ok Allora No sei un'app molto carina Tutto molto normale Allora buffo Definisci buffo Steph Perché questo potrebbe essere buffo Questo potrebbe essere buffo Allora diciamo anche un po' particolare C'è un po' qualcosa che non vedi tutti i giorni Che però fa anche ridere Perché è un po' strambo Carino Carino Beh livello 50 Non riuscirò mai a catturarti Eh direi proprio di sì Vabbè ma io li trovo tutti altissimi Questo è un 49 Eh vabbè Eh vabbè Cioè non è il massimo Però almeno fa un po' ridere Soprattutto per quanto è grande Quindi boh Io Io non ve lo spoiler Quindi non ti guardo Sì sì No anche il mio Allora non è il massimo Ok Però un po' buffo lo è secondo me Allora catturare un 49 No voglio qualcosa di più particolare La vedo grigia con solini Vediamo se ci riesco Anche perché poi non è buffissimo questo Però almeno un po' Che bellino che sei Maia Momifesta malissimo Forse gli dovrei dare almeno un altro colpo Proviamo a morsicarlo Sto andando? Eh Io questo me lo catturo È buffo secondo me Sei basso Sei basso È buffo Dimmi che riesco a prenderti Allora Uno Due Tre È uscito fuori all'ultimo Non ci posso credere Sì Preso Ok Ok Ne ho uno Ne ho uno Ne ho uno Mi sono rimaste sette Safari Ball Ok perfetto Continuiamo Ma dai ma non si contano quelle che sprechiamo Facciamo di no Contiamo dieci Pokémon in dieci Pokémon Dai Perché se no qui non ne catturiamo manco uno Guarda A me ne ha già fatto sprecare tre o quattro Questo qua non è neanche così buffissimo Ma dimmi te Solo che ormai è diventata una questione d'onore Quindi lo catturo Capisci Ma Ma lascialo in pace Se non vuole venire Lascialo lì Vuole 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 Tranquillo che vuole Mi serve qualcosa Bisogna solo convincerlo È un po' più buffo Miseria Bello Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Che livello sei Che livello sei Trenta Arbbiatissima Ok Trenta non è male Non dovrei distruggerti Quindi non dovrebbe essere troppo difficile Da bravo Su Forza Fermo Resta dentro Fatti prendere Uno Due Tre Preso E l'ho catturato Oh yeah Chissà cosa starei prendendo Steph Chissà cosa starei prendendo Steph Eh già Eh già Non puoi saperlo Ti dico che C'è un boss raro Ok Però è buffissimo Non puoi prenderlo a priori Mi spiace Dai Perché ho già provato a catturarne di boss Così a caso Questo è strabello Praticamente è una specie di Non so il nome Di cosettino Viola Con una gemma enorme in mano È stranissimo Guarda quanto è carino questo È indescrivibile Togli il buffo Ma guarda quanto è carino Carinissimo È anche un po' buffo Perché per come cammina è molto buffo Eh ma il camminare Non lo posso considerare Deve essere proprio a livello estetico Di base Comunque io per ora Non mi sento minimamente Che hai appena visto Ti dicevo Neanch'io totalmente soddisfatta Al cento per cento Che hai visto Non puoi guardare L'ho guardato Ma com'è possibile Che l'hai trovato Dai Hai capito chi è Sì io lo volevo da una vita Ma non è giusto Sì Ti odio Non vale per te però Valgono solo per la sfida E non è buffo quello Nessuno l'ha mai detto Sì No Lo dico io adesso allora Pere Smettila Forse non ho pokemon per prenderlo Lo sai Come no No Caccia grossa Ah Che bella giornata Ma io sono venuta nella tua zona Perché non ti vedo Perché sono dietro di te Invece che davanti a te Ah Allora non mi interessa C'è di venuta Prendimi Pikachu Sì A provare a tirare una pokeball Prima che tu Però non ce l'ho fatta Sei davvero ridicolo Ero davvero molto lontano Ho dovuto fare tanta strada Capisci Io io Credo di aver ufficialmente vinto Non guardare il mio schermo Ma credo di aver ufficialmente vinto Te lo dico Non credo Ok Ok Dai uno Due Non con Pikachu Con quello dopo Catturato Eh l'ho capito Che non era Ma non mi devi spiegare tutto Stef Per favore Smettila Penso di aver vinto Penso di aver vinto Ne hai trovato altri Perché in questa zona Ci sono pochi pochi No no Sono davvero pochi Oh mio dio Oh mio dio No tu se la cosa Ho vinto anche io Mi dispiace per te Ma io ho vinto In questo momento Non lo so Non ho vintissimo Non lo so Guarda che quello che ho trovato io È bello Non lo so se tu puoi aver fatto di meglio Fede Pensi di aver fatto davvero di meglio? Sì Ne sei così sicura? Sì Vedremo 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 Decideranno i consolini D'altronde Quindi staremo a vedere Allora Da queste parti Magari trovo qualcosa altro Giusto per averne ancora uno o due Per sicurezza Perché ok Sono convinto di aver vinto Ma Ferre mi sta preoccupando Oh Con questo lo facciamo rosicare un po' a Ferre Mi sa che oggi è la giornata in cui Ferre rosicara tantissimo Fatti prendere Ho trovato un albero bellissimo Ferre Guarda che meraviglia Guarda il mio schermo Oddio Lo vedi? No io ho vinto a mani basse oggi Stef Te lo inizio a dire Sì Ferre Non mi interessa dei tuoi alberi Ma io oggi ho vinto a mani basse totalmente Perché ne ho trovato un altro davvero fantastico Ma io sto guardando gli alberi Eh lo so Per me mentre che ti ho guardato gli alberi Ho guardato anche un albero Ed era sopra un albero sto coso Pensa a te Davvero? Sì Ok Ok Allora Mi ha incattivito Mi ha incattivito Io pensavo che la sfida ormai fosse finita Ho detto Stiamo per tornare nel villaggio Guardo gli alberi E lei prende un altro pokemon bellissimo Super mega buffo E invece Stef A mani vuote Perché qua non c'è nulla Cosa? Cos'hai appena visto? Guarda il mio schermo No non posso Sto facendo una battaglia molto importante Mi sto uccidendo tutti i po' Non dovevo guardarlo però eh Non dovevo guardarlo Quanto lo stavi cercando Fere? È molto bello È molto divertente Mi sono vendicato Consolini mi sono vendicato È il momento della verità mia cara Allora Io ne ho preso sei Tu quanti ne hai preso? Cinque più un bonus Ok Non voglio capire il bonus Partiamo dal primo a testa Ok Allora io sono andata Anzi in ordine di cattura In ordine di cattura Ok Esatto Ok Quindi senza neanche fare cose troppesse Il mio primo è questo No dai È il mio secondo È bello eh È buffissimo Ma l'hai trovato così grande anche tu Scusami Perché è enorme Aspetta Era come secondo Ma ormai lo metto come primo Aspetta toglilo Che se no poi combattono No Perché non me la Eccolo qui Grandezza uguale Però Il mio è il 49 Il tuo è il 34 Non c'entrano niente Doveva essere la buffezza E il fatto è che Buffo di faccia Perché c'è una faccia davvero assurda E poi come si muove La cosa più buffa Ok Allora Numero 2 Ok Quindi metto il mio vecchio numero 1 Spero che esso non si bughi Vado? Sì L'hai già visto Quindi te lo spori Certo Te lo rispoilero Vabbè sì Lui è simpatico Perché ha proprio Quei bei baffetti Baffi la cosa buffa Però diciamo che L'abbiamo già visto tutti Tante volte Non è vero Non l'ha mai visto nessuno È simpatico ma non troppo Non è vero Non è vero Il mio numero 2 invece È lui Ma dai Anche lui L'abbiamo visto Un sacco di volte Stef Ma dove In giro per il mondo Da catturare E io è la prima volta Che lo vedevo Cioè è buffo sì Però secondo me Potrei fare un po' di meglio Ma non lo so A me piace molto Comunque tanto Voterano i consolini Allora Perché qui non so se potrai Capito Sostenere Sono quasi sicura Che ci sia un doppione Vai No eh Ma dai Dai perché È questo Allora Se riesci a vederlo bene Se gli vedi avanti È una faccia Che è davvero la fine del mondo È fantastico Quando io ti dicevo Ho vinto Intendevo con questa Anche io Quando ti ho detto Ho vinto anch'io Perché ho trovato Lui abbiamo trovato Lo stesso senza Nenca Quello che è tristezza Poi Allora fammi Questo 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 Stef Sei pronto Ok No ma prima tu Perché ho paura Che sei un doppione Di nuovo No non credo Questo qua Te piace tantissimo Sì Ma questo è carino Non è troppo buppo Infatti l'ho preso Per farti rosicare Ah grazie Sei pronto Sì Perché con questo Perdi Stef Aspetta Aspetta Togli Togli Bene Dovevi togli Il tuo accidente di Pokémon Ma io l'ho tolto È lui che attacca a me Vedi chi mi segue Ciao vai È fantastico Sembra un autobus Ti giuro Sembra un pulmino E poi guarda gli occhi Se riesci Guarda gli occhi Non ci dia È pazzo Accidenti È pazzo È pazzo Toglilo È pazzo Ha vinto Ha vinto È pazzo Ok l'ho tolto L'ho tolto Però hai visto quanto è bello Lui Lui era proprio Era un bruco Cioè un bruco rettangolare Più buffo di così Non so che dirti Stef Ok Però ne ho anche un altro Aspetta perché io ho il dubbio Ma questo è quello Ah sì 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 Ok Ok Pronta Sì vai Questo è il mio Carino Guarda la mia faccia Aspetta non ci riesco Ma anche questo Vabbè sì è un po' buffo È buffo Di cose Di capuccio Allora Il mio prossimo te lo dico Lo devi vedere prima di spalle E poi in faccia Perché la sorpresa è quando lo guardi in faccia Vai Prova Aspetta Ok Chiudi gli occhi Ti dico poi come esce Aspetta Ok guardalo di spalle Lo vedi Ok E tu direi che cos'è di buffo Vai a vedergli la faccia Ok allora aspetta Dai fermo un attimo Lì ho detto con questo schiaccio Steph Con questo schiaccio Steph Che poi io a lui l'avevo già visto E' il motivo per il quale non l'ho catturato Perché ho fatto Oh è bello For tutto Poi le arrivo davanti Lo ho visto sorrire E ho fatto No non lo voglio E quindi non l'ho preso È bello per quello No 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 È buffo però Ho lasciato la ciliegina sulla torta Ok vai No non vale Hai detto che non valeva Che era solo per te Che carino quel cappello Lo so E lui è anche buffo Quindi non vorrei dire Qual è il tuo bonus Fede Ero un po' preoccupato Fin da subito Quando l'hai detto Ce l'avevo già Però più buffo di lui Non c'è nessuno Ho detto Questo ve lo tengo Come più uno Come Jolly Nel caso che mi abbia schiacciato Ok Ok E quindi tiro fuori lui Che è buffissimo Faccio antipatica Io lo chiamo così E invece ho vinto Perché chiaramente Ma non lo so se hai vinto Con quello verde rettangolare Il bruchetto rettangolare Ho vinto io Allora E anche con Heracross Metti l'autobus No Sì No Allora non ti do lui Eh no lui lo trovo L'autobus Non si è Non chiamiamolo L'autobus Ti do lui Ma ce l'ho già Appunto Dammi qualcosa Ce l'ho già Lui non ce l'hai Ma non mi piace Io ti sto dando Una roba carina Cioè Pikachu lo useresti L'autobus Non lo userà nessuno L'ho metto In casa Come effetto D'arredamento Sì però aspetta Aspetta Scusa un attimo Che tipo di pokemon è Perché a me comunque serve Eh sarà d'erba Eh a me serve un pokemon d'erba Perché gloom Se nella tua squadra Se nella tua squadra da sei Ti tiene l'autobus Io non vado avanti Con la serie Dai ci starebbe bene No No è un autobus Investe la gente Che fa Allora se vuoi Pikachu Adesso Perché altrimenti io No me lo tengo Ok È bello Cioè tu pensa Se provi a sfidare qualcuno Con quel pokemon Ah beh Come va a finire Io volevo essere gentile No volevi solo Quel pokemon fantastico Che non avevi mai visto Io volevo essere gentile L'avevo già pensato Prima di vedere i tuoi Però Ma io ti ho offerto il cagnolino Non l'hai voluto Beh ma il cane fa schifo L'ho visto 72 volte Poi si evolve E diventa ancora più brutto Non so se l'hai mai visto Evoluto Ma è brutto È brutto 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 Comunque Direi che la sfida Decideranno i consolini Chi l'ha vinta Ragazzi Lasciateci un like E se è la prima volta Che ho detto il nostro video Potete considerarli Di iscrivervi Per non perdere i video Altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao